Marostica rivoluzione al mercato. Dopo quasi due anni di lavoro e continue sperimentazioni, dal prossimo 14 aprile i banchi del mercato settimanale del martedì lasceranno definitivamente via Pizzamano per approdare nel parcheggio dell'ex opificio Baggio. Abbiamo deciso di fare una sperimentazione, sperimentazione che durerà un anno e quindi dal 14 di aprile del 2015 fino alla stessa data del 2016. Alla scadenza della sperimentazione ci riconfronteremo con gli operatori e con le categorie e valuteremo se l'esperimentazione è stata positiva, andremo a confermarla, se non sarà stata soddisfacente andremo a ritararla secondo le esigenze. 12 gli ambulanti che cambieranno sede, 5 dei quali però hanno già espresso le loro perplessità. Abbiamo comunque deciso di incentivare anche questi 5 come tutti quelli che andranno in questa nuova area mercatale scontando il 50% del canone di occupazione di suolo pubblico per il primo anno di sperimentazione. Per l'amministrazione la scelta porterà a tutti indubbi vantaggi di sicurezza viabilistici per il comune, economici per gli operatori, più visibili alla clientela e più vicini ai parcheggi. Ma questa piccola rivoluzione per Marostica non sarà certo l'unica novità. Dal 23 di aprile con grande piacere ospiteremo a Marostica il mercato di campagna amica. È un mercato dedicato agli operatori agricoli che verranno a proporre a Marostica i prodotti del loro territorio. Dieci produttori presenti in arrivo in prevalenza dal territorio provinciale.